Diciamo che ce la siamo meritata tutta, ma non da oggi, oggi abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo meritato assolutamente, i complimenti vanno ai ragazzi che sono stati fantastici. Una partita, una bellissima partita, finita 4-3 ma poteva finire anche 7-6, con tantissime occasioni da tutte e due le parti. Grande livello di calcio a 5 da tutte e due le parti e complimenti anche all'Active che sono stati bravissimi. Sì, un'altra finale, chiaro che la mente va a quella di due anni fa, adesso siamo cambiati anche a livello caratteriale, a livello di gestione della partita, di personalità e siamo sicuramente molto più fiduciosi. Certamente c'è un'espulsione nel finale che potrebbe pesare anche domani, da parte degli arbitri mi sarei aspettato un pochino più di buonsenso perché a un minuto e mezzo dalla fine, per una parola di troppo, non si può buttare fuori un ragazzo quando 5 minuti prima, su un fallo da dietro, su Ferreira, il 5 loro non è stato ammonito perché probabilmente era già stato ammonito e l'arbitro, secondo me, ci può anche stare non gli ha dato la seconda ammonizione per non buttarlo fuori, ma a un minuto e mezzo dalla fine poi non può cambiare il metodo di giudizio.